cari amici di rado maria buona giornata a tutti sulle 9 5 minuti di giovedì 20 aprile 2023 pace gioia a tutti voi cari amici in ascolto e che la luce della parola video guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità del bene e sulla via della pace andiamo al nostro programma la lettura cristiana della conica della storia incominciamo con il nostro pensiero spirituale cari amici vorrei mostrare oggi la consonanza che c'è fra un messaggio della ria della pace del 25 luglio del 2019 e l'ultimo messaggio che ha dato voi sapete che l'ultimo messaggio del 25 marzo era molto breve ma molto significativo e cioè la madonna ha detto questo questo tempo sia il tempo della preghiera e abbiamo detto nella sua interpretazione che ovviamente riguardava questa fase diciamo della quaresima dove raccoglieci in preghiera più intensamente come dall'altra parte è Gesù nel deserto però abbiamo anche detto che è una questa è una indicazione un'esortazione della madonna che riguarda questo tempo di preparazione segreti di fatti quando nel 25 luglio 2019 la madonna ci ha detto che sarebbero arrivate le prove che noi non saremmo stati forti che avrebbe regnato il peccato ma che se fossimo stati suoi avremmo vinto però anche sul giunto pregate giorno e notte quindi cari amici questo è il pensiero che oggi vorrei prendere in considerazione cioè come la madonna ci ha detto allora per il tempo delle prove pregate giorni e notte poi le prove sono arrivate come sapete è arrivata la arrivata la pandemia è arrivata poi la guerra poi tanti altri disagi che sono accentuati nel mondo la carestia la siccità insomma il coziente sofferenza dell'umanità è aumentato notevolmente in questi tempi però siamo ancora nella fase diciamo di preparatoria e al tempo dei segreti e in questa fase preparatoria noi dobbiamo dare una diversa impostazione di vita cioè dobbiamo capire che non possiamo più aspettare cioè è sbagliato quando arriveranno i segreti quando arriverà il tempo dei segreti il problema non è quello arriverà quando dio vorrà il problema è che noi dobbiamo in preparazione a questo tempo di grandi prove specialmente per quanto riguarda la fede non dimentichiamolo in preparazione di questo tempo noi dobbiamo cambiare stile di vita cioè dobbiamo in qualche modo uscire fuori dalla palude possiamo chiamarla la palude maleodorante del mondo e che non significa abbandonare gli uomini casomai significa essere con loro portatori di luce di pace di amore quindi quindi quando si dice uscire dal mondo significa di uscire dai condizionamenti mondani dall'oscurità dalla menzogna dalle cattiverie dalla rete delle menzogne del peccato delle prepotenze insomma questa palude dove c'è di tutto serpenti scorpioni pure pesci e cani ci saranno immagino che è una bolgia il mondo è diventato una bolgia purtroppo è una bolgia dove la bolgia tantesca insomma noi siamo tutti consapevoli è un mondo senza regole senza comandamenti senza pietà senza carità senza giustizia è un mondo corruttore che attraverso il controllo di mass media corrompe e corrompe le persone le spinge sulla via del male sulla via del vizio sulla via del peccato e sulla via dell'odio sulla via dell'invidia sulla via della violenza sulla via della menzogna ed è un avvelenamento quotidiano che porta man mano alla malattia e alla morte dell'anima e per quello che la Madonna ha detto oggi molte anime sono malate e vanno verso la morte spirituale è un'umanità che è sotto la dittatura del principe di questo mondo che la porta alla perdizione questa è dunque diciamo la corrente che ci trascina è la palude nella quale affondiamo ogni giorno e dalla quale dobbiamo uscire veramente questa è una cosa cioè credo che sia quello che la Madonna vuole quando ci ha detto questo tempo sia per voi il tempo della preghiera quando la Madonna ha detto pregate giorno e notte quando la Madonna ha detto guardate a mio figlio e seguitelo sulla via del calvario quindi cari amici si tratta proprio di dare una nuova impostazione alla nostra vita prima di tutto detto in parole molto semplici quello che la Madonna ci ha detto tante volte Dio è il primo posto cioè la nostra giornata la nostra notte la nostra vita siano posti sotto il sole di Dio siano tolti dalla tenebra del male dalla tenebra dell'iniquità e della morte ma si ha posto la nostra vita nella luce di Dio quindi nella luce della fede e quindi nella luce della preghiera e quindi al primo posto Dio al primo posto la preghiera al primo posto la sua parola al primo posto i suoi comandamenti al primo posto la salute dell'anima al primo posto il nutrimento dell'anima al primo posto l'umiltà la bontà la generosità la giustizia la pace l'amore il perdono cioè come dire come dire se noi se noi non facciamo questa preparazione e viviamo nelle curiosità nei compromessi nelle come si dice le occhiate complici nei fondi di questo mondo se noi ci abbeveriamo ogni giorno come abbiamo detto perché ieri ho letto un pensiero di Padre Pio che mi ha molto impressionato cioè la televisione è il tabernacolo di Satana la televisione è il tabernacolo di Satana detto da Padre Pio ai tempi che la televisione non era quella che è adesso adesso è una cloaca addirittura e dove pur di avere l'audience sono disposti a direvi tutto a farevi tutto quindi questo è quanto constatiamo ma c'è tutta una come dire c'è tutta un avvelenamento del cuore dell'anima che è ovunque che è l'aria che respiriamo che sono le persone che frequentiamo anche che è tutto ciò che leggiamo che sentiamo che guardiamo allora noi dobbiamo come c'è una grande tradizione cristiana no? che è incominciata con Gesù stesso se vogliamo quella cristiana ma era già presente nell'Antico Testamento la fuga dei profeti nel deserto poi però con la con la benuta di cristianesimo man mano che anche la chiesa si inseriva nella società e un pochettino diventava mondana la fuga nel deserto era una è diventato un fatto un fatto significativo straordinario nella vita della chiesa ma non solo i padri del deserto ma tutte quelle realtà che nel corso della storia fino ad oggi sono oasi oasi di cielo possiamo chiamarle oasi di cielo nelle quale far sì che Dio illumini le anime le nutra e ne faccia dei fari di luce nella tenebra del mondo così noi adesso in vista della grande battaglia fra la donna vestita di sole il drago infernale e le due bestie dell'Apocalisse capitolo 13 che sono il potere umano assoluto cioè il mondo nuovo senza Dio che arroga a sé un potere inappellabile la la seconda bestia quella simile a un agnello che ha la voce di drago è la falsa religione è il cristianesimo mondano è la insalata russa di tutte le religioni al servizio del potere la seconda bestia al servizio della prima bestia cari amici da tutto questo dobbiamo uscire dobbiamo mettere le nostre anime al sole di Dio perché le illumini con la luce della verità dobbiamo come ci ha detto la Madonna in un bellissimo messaggio lui ci diceva non guardate nessun altro se non mio figlio non ascoltate le sue parole se non quelle di mio figlio ovviamente c'è anche la parola della chiesa che è la parola di Gesù quella la Madonna è sempre come madre della chiesa però ci può portare nel cuore della chiesa dove c'è la parola di Dio dove c'è l'eucaristia dove c'è la grazia dello spirito santo dove la chiesa della terra è in comunione con quella del cielo quindi entriamo in questa dimensione nel concreto tocca a voi cari amici riorganizzare la vostra vita la vostra giornata col primato della priera con la ricerca di Dio con la pratica del bene con l'osservanza dei comandamenti una giornata in cui cari amici Dio in voi diventi una luce una forza una grazia con la quale potete come dire essere di grande aiuto ai vostri familiari che condividono con voi la giornata quelli che con voi lavorando condividono la giornata il lavoro in modo tale che come dire uscite dai condizionamenti mondani uscite dalla fiera delle vanità entrate nella entrate nella casa di Dio che è il vostro cuore che Dio si è riservato per sé come ha detto la Madonna che il Padre si è riservato nel cuore di ognuno una parte che è tutta sua per prendervi di mora allora noi entriamo in questa celle interiore come la chiamava Caterina da Siena celle interiore della nostra anima e lì sostiamo con Cristo parliamo con Cristo ascoltiamo Cristo supplichiamo Cristo insieme a Maria lì meditiamo la parola di Dio meditiamo i messaggi della Madonna lì preghiamo con la preghiera di intercessione per la pace del mondo per la conversione di non credenti di quelli che non hanno sperimentato l'amore di Dio questo questo tutto questo esige una decisione però è chiaro che esige perché perché uno prende una decisione deve avere una comprensione deve farsi una convinzione cioè deve capire che questo è il tempo il tempo da dedicare a Dio che poi è anche il tempo da dedicare a se stessi per essere apostoli per essere soldati di Cristo per essere testimoni per essere intrepidi per non essere pusillanimi per essere sereni per essere gioiosi per essere manitese in modo tale cari amici che noi saremo poi il ponte un ponte che la Madonna sta costruendo soprattutto con i sacerdoti bravilaici un ponte che permette di attraversare il tempo della tribulazione incolumi e approdare con tutti quelli che ci seguiranno alla sponda opposta del Mar Rosso al tempo della pace dobbiamo essere questo ponte ma per essere questo ponte dobbiamo noi stessi cari amici adesso è come dire proprio una uscita dal mondo dal punto di vista spirituale un'uscita dei suoi condizionamenti un'uscita dalle sue vanità un'uscita dalle sue cose che contano ma che contano niente davanti a Dio un fiume quotidiano di nullità cioè quello che noi con cui siamo a contatto un fiume quotidiano di nullità mentre le cose per le quali dovremmo essere più attenti c'è la sofferenza dei fratelli lo smandamento dei fratelli il pericolo dell'oro questo passa inosservato perfino a noi che siamo sacerdoti e dovremmo avere un occhio particolare per la sorte delle anime ecco questo dunque è il pensiero che volevo darvi oggi sintetizzato molto semplicemente preghiamo giorno e notte come si va a pregare di notte amici si addormenta pregando quando ci svegliamo si addormenta dicendo un ave maria col cuore un ave maria mentre dormiamo ci svegliamo durante la notte diciamo un ave maria per le anime che sono nella tribolazione e nel tempo della prova per la conversione del mondo per la pace nel mondo andiamo avanti fino al mattino dormendo e pregando come dice il salmo io dormo ma il mio cuore veglia nel sonno il cuore veglia e prega e poi di giorno cari amici guardate che la giornata è lunga ci sono tanti tempi vuoti si possono dire ci può dire un rosario due rosari tre rosari quattro rosari anche cinque sei sette rosari si possono dire invece che perdere tempo davanti alla televisione e vi assicuro che imparando a dire il rosario è una cosa meravigliosa e poi dicendo tutti e quattro i rosari con Maria e Gesù passati in rassegna tutti gli eventi della redenzione dal momento dell'annunciazione al momento della glorificazione in cielo di Maria con Gesù che come comprendiamo nell'ultimo mistero della gloria che è appunto il governo universale di Gesù di Maria verso il quale siamo incamminati ora questa è la cosa che è importante però non posso decidere io il vostro posto anzi io devo decidere il mio posto io stesso devo essere a questo punto di vista sempre più esigente verso me stesso dunque adesso però questo è il pensiero quotidiano adesso c'è una tematica che mi interessa molto che se voi vi ricordate quando ancora dopo le elezioni o prima delle elezioni io dicevo quali sono le priorità che abbiamo nei confronti della nostra patria che è l'Italia è la nostra patria perché dal punto di vista naturale ci ha fatto la lingua ci ha dato tante cose una storia un radicamento eccetera poi ovviamente sappiamo che la nostra patria è nei cieli e quindi c'è la nostra appartenenza alla chiesa che è tutta diversa è tutta sul piano soprannaturale però è chiaro che ci teniamo tutti alla nostra patria e fra le priorità che abbiamo messo era quello del problema della natalità cioè in pratica credo che siamo il paese al mondo più malmesso da questo punto di vista cioè voi pensate che in Francia lo scorso anno sono nati 800.000 bambini in Italia neanche 400.000 e la Francia ha più o meno 5-6 milioni di abitanti più di noi cioè è chiaro che andiamo verso una catastrofe democratica ormai non c'è dubbio perfino tutti se ne sono accorti e è caduto il mito tra l'altro una scusa inescusabile che facendo arrivare i migranti a centinaia di migliaia potessimo superiore invece poi si è dimostrato che i migranti non sono sufficienti che anche i migranti alla fine si adeguano all'1,2 di natalità che c'è in Italia e quindi abbiamo problemi gravissimi da affrontare allora come già vi ho detto il governo questo governo questo problema l'ha messo a fuoco nel programma di governo ha preso delle decisioni importanti per aumento della quotiente per aumento di un contributo statale a chi ha le famiglie che hanno dei figli però questo non è sufficiente se si può creare una svolta non è sufficiente il governo lo sa benissimo adesso è al lavoro devo dire che anche i giornali che sono all'opposizione concordano e sostengono e ritengono che questa sia una cosa da fare presto quindi ci può essere anche una convergenza molto ampia su questo tema del Parlamento allora l'ultima proposta è stata quella del ministro dell'economia Giorgetti che ha detto che un ulteriore passo avanti oltre al contributo che viene dato ai figli già stabilito e già finanziato quello un altro contributo che potrebbe essere l'estensione dalle tasse lo slogan è molto semplice cioè a chi ha due figli niente tasse ora è chiaro che la cosa andrà precisata molto bene però perfino Ferrara sul foglio ha sponsorizzato la bontà di questo slogan niente tasse a chi ha due figli però il governo vorrà andare oltre e dare anche la possibilità di avere un terzo anche un quarto se è possibile a chi vuole allora stamattina ho visto con piacere che il foglio si è fatto anche corifeo di questa di questa idea anche oggi ha moltiplicato gli articoli a sostegno di questa idea di Giorgetti cioè due figli e niente tasse oltre ai contributi già stabiliti e ha intervistato il professor Giancarlo Brangiardo che è stato recentemente scaduto come presidente dell'Inps che scusate presidente dell'Istat e che mi ricordo che in tante tavole rotonde è stato parlato Radio Maria che spiega la bontà di questa idea di dare una forte spinta alla procreazione dei figli anche attraverso una forte esenzione dalle tasse vediamo allora leggiamo Brani di questa intervista a Brangiardo del foglio troverete anche l'articolo che ho scelto in parte da leggere lo troverete anche sul nostro sito internet radomarie.it nella sezione articoli in evidenza dunque vediamo allora questa lettura perché è interessante perché ci aiuta a capire ci aiuta a farci una cultura ci aiuta a essere responsabili e non conquisti insomma l'immigrazione va governata non subita cioè l'immigrazione è necessaria ma è un conto l'immigrazione diciamo legale quella governata attraverso i trattati fra i vari governi è un conto sono queste imbarcazioni che arrivano disperati che tra l'altro hanno un tasso di rischio della vita molto altissimo altissimo l'immigrazione va governata non subita in Italia moltissime donne e giovani in età lavorativi restano fuori dal mercato di lavoro è un necessario di riserva da recuperare e valorizzare cioè molti di quelli che arrivano da fuori rimangono parcheggiati e non sono integrati ed è comunque una realtà da recuperare e da valorizzare incominciandoci a ruolo bene la lingua che è la prima cosa da fare Giancarlo Brangiardo già presidente dell'ISTAT e professore in merito di demografia all'università di Milano Bicocca interviene nel dibattito su un'ascita emigranti esposa l'idea del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti anticipata dal foglio niente tasse per chi fa almeno due figli agevolare il passaggio dal primo al secondo genito dice Brangiardo è un obiettivo strategico per favorire un recupero sul fronte della natalità è qualcosa di conciliabile con i modelli familiari del nostro tempo e potrebbe configurarsi come il primo importante passo verso l'inversione di tendenza cioè l'inversione di tendenza non arriverà se non la si provoca vi ho già detto che i soldi non bastano ci vuole anche una diversa concezione della vita più positiva più propositiva una vita come missione come educazione come quindi valorizzazione della famiglia che poi è la cosa più preziosa che abbiamo nella vita insomma allora sarebbe auspicabile dice Brangiardo che tale passaggio avvenisse in corrispondenza di donne relativamente giovani diciamo nella seconda metà dei 30 anni da rendere possibili anche eventuali terzogenici per chi li volesse cioè cominciare più prima ad avere figli già sui 30 anni almeno in modo tale di avere non solo due ma anche tre figli per chi li volesse questa sarebbe una diciamo un'indicazione per chi esentare le tasse quanto al come arrivarci la proposta del ministro Giorgetti offre uno spunto di riflessione per me assai importante dice Brangiardo si può valutare quali siano gli interventi compatibili con la finanza pubblica ovviamente più capaci da un lato di fornire un concreto aiuto economico dall'altro di poter assegnare una sorta di attestato di riconoscenza quindi si tratta proprio di un aiuto anche morale nel senso di un attestato di riconoscenza da parte della collettività verso chi è disposto a farsi liberamente coinvolgere nell'impegno di un maggiore carico familiare assumendo nei costi le responsabilità cioè chi appunto forma una famiglia e si assume la responsabilità dei costi e dell'educazione dei figli deve avere un riconoscimento da parte della collettività quindi una sorta di attestato di riconoscenza ad esempio in passato io ho suggerito di Cebrangiardo a puro titolo gratificante dimostrativo di esentare la famiglia dal canonerai al lato della nascita del secondo figlio sarebbe un segnale in grado di comunicare quel siamo con voi che testimone il nuovo atteggiamento culturale di cui c'è enorme bisogno allora è vero che la componente non è soltanto economica ma è culturale però è anche vero che quando il governo Berlusconi che forse passerà la storia per questa scelta fra l'altro ha deciso di dare mi sembra mille euro per un anno a ogni figlio che nasceva quell'anno c'è stata subito un'invasione di tendenza cioè in quell'anno lì sono dei 50.000 bambini più dell'anno precedente quindi vuol dire che funziona la cosa però non si è più ripetuta perché anche da parte dei gruppi dirigenti c'è un certo lo sbandamento intellettuale di pensare che comunque bastano gli immigrati gli immigrati ci vogliono ma non sono sufficienti i primi giorni a Beloni martedì su questo tema ha detto non servono più migliaia ma più non servono più migranti ma più figli e lavoro femminile cioè questa è una tematica molto intelligente cioè l'Italia è uno dei paesi dell'Occidente che ha meno donne che lavorano il lavoro femminile è importante per le donne stesse e come dimostro tante situazioni per esempio quella della Francia per dirne una non è vero che il lavoro femminile è in contrasto con la generazione dei figli deve essere accompagnato da una serie di provvedimenti come per esempio gli asili dalle aziende eccetera come ci sono in Francia lei professore che ne pensa chiede a Brangiardo il foglio dice la realtà va presa per quello che è e con i dati oggettivi siamo un paese demograficamente debole e se non rilanciamo con determinazione la natalità da qui al 2070 perderemo 11 milioni di persone negli atti tre decenni rischiamo di arrivare alla soglia minima dei 300 mila novinati in un anno l'esperienza di altri paesi ci insegna invece che si può fare che la tendenza può cambiare il modello tipico è la Francia dove la demografia da sempre è un tema centrale per i governi di ogni colore cioè sono tutti d'accordo in Francia tutti i partiti d'accordo nel sostegno alla demografia il modello tipico è la Francia dice Brangiardo dove la demografia da sempre è un tema centrale per i governi di ogni colore contributi economici quotiente familiare asilo in nido a costi accessibili assistenza in ogni forma e poi per i francesi esiste il senso di una missione comune di procreare figli per la nazione cioè vorrei dire per contesia giornalisti invece di dire fare figli che mi sembrano una noi lo diciamo dei conili fare figli no diciamo procreare figli procreare concorriamo con Dio creatore quindi c'è anche questa missione comunica dovevamo sentire come italiani procreare figli per la nazione è un sentimento condiviso lo scorso anno loro hanno salutato i francesi più di 700.000 nuove nascite a confronto delle 393.000 di nostre il doppio quindi cari amici si tratta di come dire di entrare con decisione perché ormai non si può più rimandare in Francia il numero medio dei figli continua a brangiarlo per ogni donna si aggira all'1,85 e noi siamo all'1,24 se la retta di un asilo è di 900 euro probabilmente una donna valuta più conveniente restare a casa e risparmiare quella spesa soprattutto se l'impegno le offre un compenso di 1000 euro al giorno fare figli cioè procreare figli non è solo questione di soldi ma anche di impiego di tempo di organizzazione della vita individuale familiare servono quindi elementi di gratificazione sociale per troppo tempo la logica è stata li volete sono fatti i vostri dovremmo cambiare il dire li volete sono fatti anche i nostri tutta la collettività possiamo aiutarvi dobbiamo aiutarvi serve un riconoscimento per quelle famiglie che magari con un pizzico di audacia si spingono a fare tre o quattro figli io ne conosco ne ho conosciuto a meno tre o quattro che ne hanno fatte più di dieci che ne hanno procreati più di dieci erano tutte figli meggiugorriane comunque sempre molto religiose dovevo puntare io mi ricordo che una volta sono andato a Meggiugorie ho preso la nave a Rieca e ho incontrato una famiglia scusate io li chiamo un zinga rimanò nel senso dispreciativo perché con la famiglia erano 14 ragazzi e bambini col papà e la mamma erano ascoltatori di grado Maria appena mi hanno visto sulla nave mi sono saltati addosso a farmi festa una cosa incredibile erano 14 sono andati a Meggiugorie loro erano già stati conoscevano Visca Visca li ha accolti lei personalmente ha parlato a tutti ha fatto dei regalini a tutti una cosa meravigliosa erano 14 figli bambini curatissimi tutti a posto tutti ordinati tutti che pregavano quando sono i genitori bravi si vede subito dovevo puntare sulla sinergia con i privati dice Brangiardo con un pizzico di audacia dunque cioè gli impreditori che investono nel welfare azientale vanno premiati con un diploma di benemerenza cioè esortare le aziende a mettere quelle strutture che sono necessarie per l'assistenza dei bambini anche piccolissimi certo asilo in nido ma anche di più in modo tale insomma che si possa far fronte in modo tale che la donna possa lavorare come avviene in tanti paesi e procreare senza sobbaccarsi a pesi enormi e quindi come dice giustamente Brangiardo servono soluzioni fantasiosi ma noi italiani di fantasia non manchiamo di fantasia adesso c'è quello che ci mancava una forte spinta del governo e speriamo che non venga liquidata con i soliti slogan come come ha fatto l'opposizione in tutto questo tempo a ogni proposto uno slogan uno slogan del vecchio testamento per dire cioè superatissimo è passato il 68 invece ho letto volentieri molti interventi anche dell'opposizione alcuni anche del PD che molto responsabili molto ben centrati mi auguro che diventino come dire che diventino maggioritari anche per quanto riguarda l'opposizione come avviene in Francia d'altra parte bene carissimi questo dunque è un problema che io tengo caldo da sempre perché finché non vedo come come per l'acqua finché non vedo piovere come si deve almeno qui a Erbe in questa zona qui che c'è una siccita spaventosa non demordo e adesso sembra che deva piovere speriamo ve lo dirò quando ha piovuto perché ormai non fido più di niente perché le volte che il meteo segna l'acqua e poi non è arrivata non li conto più allora come è tenuto duro per l'acqua spero che ieri sera è arrivata però ne è promessa molta per oggi e domani speriamo non demordiamo dalla preghiera e così non demordo da questa cosa qui fin quando non vedo cambiare il trend cioè se prossimano invece di 390.000 saremo 420.000 vorrei dire che siamo sulla strada giusta ma finché non facciamo questo non mollo così pure non ho mollato per la seccità fin quando non ho visto il fiume qui vicino pieno ieri ha piovuto ma è ancora secco finché non lo vedo pieno non molliamo cari amici e perché? perché come l'acqua è necessaria per la vita così la procreazione è necessaria perché continui la vita bene cari amici questo dunque è un problema che mi appassiona sono primo di 8 fratelli di cui 6 ancora viventi e quindi ovviamente apprezzo il fatto di aver avuto dei fratelli quando ero piccolo con cui passare le notti a fare le lotte con i cuscini insomma cose che adesso i figli di oggi queste bellezze se le sognano giriamo la pagina cari amici adesso si può sempre parlare di tante cose però le devo scegliere perché dunque come sapete qualche tempo fa vi ho lanciato un video che fra l'altro ancora adesso è molto visto parecchie decine di migliaia di quello che l'hanno guardato che riguarda le profezie della beata Elena Aiello quello che vi ho letto io allora era uno studio fatto dal professore Roberto De Mattei sui cosiddetti in virgolette castigli divini sul mondo secondo la beata Elena Aiello adesso ho visto che su corrispondenza romana che possiamo dire il giornale di De Mattei sta uscendo è uscita la prima parte di una ripresa di questa tematica e cioè delle profezie della beata Elena Aiello attualizzata però con un commento attualizzato al giorno d'oggi che è molto interessante e allora vi leggo quello che riesco a leggervi poi ovviamente lo potete leggere nel nostro sito internet ok allora vediamo questa è la scritta il 19 aprile del 2023 che significa ieri dunque nel 1977 Monsignor Francesco Sbadafora un eminente biblista allora docente della Pontificio Università Lateranense mi consegnò dice De Mattei un dattino scritto di 42 pagine contenente le rivelazioni di Gesù e della Madonna alla madre generale suora Elena Aiello fondatrice delle suore minime della passione di nostro signore Gesù Cristo ricevute da questa suora fra il 15 aprile il 1938 e il 22 agosto 1960 quindi la consegnate a un uomo insigne che ho conosciuto anch'io che è appunto Monsignor Spadafora Monsignor Spadafora era stato vicino alla Veggente per oltre 25 anni assistendola in punto di morte e l'aveva dedicato un libro dal titolo Soraiello a Monaca Santa uscito da Città Nuova Roma 1964 pubblicai dice De Mattei è una parte di queste rivelazioni private che la Beata Aiello aveva dato a Spadafora in un articolo dal titolo Castighi divini sull'Italia e sul mondo che apparve il 30 gennaio 1978 sul numero 33 della rivista Cristianità che è quella curata da Marco Invernizzi padre Livo Fanzaga scrive De Mattei ha ripubblicato e commentato questo testo del 1978 De Mattei a Radio Maria emettete febbraio 2022 come è vero e abbiamo fatto anche un bel video anche in mensile catolicismo pubblicato a San Paolo del Brasile dedicato recentemente alla visione di Sora Elena Aiello un articolo di Luis Dafur Sora Elena Aiello nacque a Montal Lufago in provincia di Cosenza il 10 aprile 1895 la sua vita si intreccia con quella della congregazione religiosa da rifondata nel 1928 allo scopo di raccogli ed educare cristianamente le bambine abbandonate che sono le sore minime questa congregazione è quella delle sore minime della passione di Gesù Cristo sulla scia spirituale di San Francesco di Paola il santo daumaturno calabrese nato a pochi chilometri dal paesino natale di Solenina quindi abbiamo questa presenza di Beate di mistiche di mistiche meridionali Italia meridionale meravigliose che sono Teresa Musco Beata Aiello che sono anche la Valtorti in parte in parte Toscana in parte Bergamasca in parte però anche Casertana però sono donne straordinarie queste che hanno abilitato in Italia con i loro scritti senza pensare a quella un po' più lontana del tempo a Luisa Picarreta straordinaria anch'essa mi pare che sia pugliese questa è calabrese e poi la Musco mi pare che sia della Campania mi pare quindi il suo ci ha beneficato i 22 i 2 gennaio 1948 vent'anni dopo la fondazione la congregazione ottenne l'approvazione ecclesiastica incontrando il Papa Pio XII durante il giubileo del 1950 Sorin in alle chiese al Papa si ritenesse che questa opera fosse secondo il cuore della chiesa il suo pontefice le rispose e la sua opera non finirà perché fu voluta dalla providenza Sorin in aiello morì a Roma il 19 giugno 1961 Giovanni Paolo II la dichiarata venerabile il 22 gennaio 1991 Venevetto XVI la programmata beata il 14 settembre 2011 il decreto di beatificazione ricorda che Elena aiello morì amo profondamente il Santo Padre e la Chiesa anima eminentemente eucaristica solo mi va a dire l'eucaristia è l'alimento essenziale della mia vita il resimito profondo della mia anima il sacramento che dà senso alla mia vita e a tutte le mie azioni il suo carisma si trova sintetizzato nella frase che la ripeteva quasi sempre in maniera di litania non c'è amore senza sofferenza dal 2 marzo 1923 fino alla morte ogni venerdì di quaresima in particolare ogni venerdì santo Sor Elena riviveva la passione di nostro Signore con sofferenze sudore di sangue visioni e rivelazioni il tema ricorrente di queste rivelazioni è l'annuncio di un castigo divino sull'umanità immersa nel peccato questo è il tema di fondo delle sue rivelazioni cioè allora si diceva castigo divino oggi a mio parere giustamente si mette in evidenza che quelli che lui chiamavano castigli divini in realtà poi sono malefatti umani alle quali Dio per grazia cerca di rimediare il tema ricorrente di queste rivelazioni è l'annuncio di un castigo divino sull'umanità immersa nel peccato il 16 marzo 1951 Gesù le disse gli uomini hanno scagliato contro di un uragano di odio quanto è vero il mio cuore sanguina perché gli uomini mi oltraggiano ovunque cerco il peccatore essi sono accecati dal peccato il mondo vive fuori dal cristianesimo quanto è vero il fragello è vicino è il grande castigo troppi sono i delitti tremendi sono pericoli che minacciano l'umanità la guerra con le sue spaventevoli armi porterà rovine e morte per ogni singolo popolo aiutami a soffrire deve essere la vittima per il mondo dissoluto le dice Gesù il decisione della chiesa della città di Roma è al centro della rivelazione della leggente e questo deve far pensare perché è chiaro che De Mattei grande storico rilegge queste 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 profezie nella nella luce prossima dei dieci segreti anche se non li nomina il 7 agosto 1954 la Madonna le dice Roma sarà molto travagliata e Roma è resa una scena è resa una scena di delitti di mercenari dunque Roma sarà molto travagliata perché è macchiata di peccati molto gravi il fango del peccato è arrivato al colmo e Roma è resa una scena di delitti di mercenari Roma deve molto soffrire perché la città santa profanata e perciò sarà travagliata ma non distrutta dal flagelo della guerra qui siamo questo è una profezia del 1954 è già finita la seconda guerra mondiale non permetto mai che la sede del vicario di Cristo sia in battaglia starò curva con le mie braccia in segno di protezione ha detto la Madonna e tutti la davano riconoscere negli avvenimenti che si presenteranno quindi ci sarà una particolare protezione di Roma che sarà travagliata ma non distrutta compirò la mia opera metti in ogni città in ogni luogo pochi resteranno salvi perché il flagelo della guerra è vicino compirò la mia opera metti in ogni città e in ogni luogo pochi resteranno salvi perché il flagelo della guerra è vicino ovviamente cari amici come vi ho già detto personalmente ritengo è una mia visione personale che tutte queste profezie vanno lette alla luce dei messaggi di Međugorje perché perché queste profezie hanno comunque una intenzionalità di conversione di cambiamento che poi sarà Dio valutare il 4 marzo 1955 la Madonna rivela la chiesa sarà molto travagliata una terza parte di uomini si salverà una terza parte degli uomini si salverà il flagelo della guerra è vicino il tempo non è lontano e il mondo diventerà un vulcano di fuoco e un torrente di sangue le medesime cose le diceva Sor Lucia nel 1944 nel gennaio 1944 l'8 dicembre 1955 dice guarda gli angeli con in mano recipienti pieni di fuoco sono come tante fiaccole ogni due angeli porteranno queste fiaccole erano come tanti tronchi d'albero e sono dicono apocalittiche che ci sono anche dell'apocalisse servono per rovesciare sul mondo il castigo sarà spaventoso scenderanno sul mondo come tante salette di fuoco buttate dagli angeli sulla terra il fuoco accadrà a pezzi un solo colpo però non cagiona la morte di tutti gli uomini saranno puniti secondo i debiti contratti con la giustizia divina insomma queste sono rivelazioni fatte dalla Madonna e Mattei nota le assonanze con il messaggio di Fatima sono impressionanti il 7 ottobre 1956 Solena riporta la Russia spanderà i suoi errori su tutto il mondo quindi qui è già passato il tutto nel tempo diciamo così dell'occupazione comunista di mezzo mondo eravamo già nella guerra fredda il 7 ottobre 1956 Solena riporta la Russia spanderà i suoi errori su tutto il mondo con persecuzioni contro la Chiesa i sacerdoti contro il Cristo in terra muoverà tremende rivoluzioni la tragedia sarà terrificante questo è quello che sta succedendo in parte gli uomini saranno annientati avrà una guerra mai vista tutte le nazioni scenderanno in campo di battaglia questa è una profezia del 1957 la Russia scaglierà tutte le sue forze del male su tutte le nazioni la parte migliore dei ministri di Dio passerà per la purificazione con il più grande fragello mai visto nella storia del mondo insomma questa è stata proclamata beata poi dalla Chiesa quindi queste profezie sono state ritenute comunque compatibili con il messaggio cristiano perché se no non sarebbe stata fatta santa ma ecco qui però c'è sempre il rimedio ma la salvezza del mondo sta nel cuore di Macrocio di Maria e vedete 2 agosto 1957 la Madonna afferma per salvare le anime dall'inferno si deve diffondere la mia devozione al cuore immacolato di Maria mediatrice fra gli uomini e Dio con la consacrazione delle famiglie al mio cuore immacolato a quello di Gesù e l'8 dicembre dello stesso anno bisogna formare una legione di anime un apostolato al cuore immacolato di Maria mediatrice e regina dell'universo quindi come già vi ho detto bisogna formare la rete delle anime che pregano i gruppi di preghiera gli apostoli di Maria e questo è il tempo in cui dobbiamo come dire organizzarci santamente per la grande battaglia l'11 febbraio 1958 la Madonna ribadisce il mondo 58 insomma non è tanto lontano il mondo cristiano è in pericolo perché è minacciato dal materialismo il fango dei peccati specie nella città eterna è arrivato al colmo il mio figlio pastore angelico che era allora era morto più dodicesimo allora nel 58 no non era ancora morto morirà un po' più tardi dovrà tanto soffrire in questi giorni e saranno agonie di morte come avvenne di fatto bisogna che si facciano tanti atti di fede quindi di fervore per essere pronti all'attacco per difendere i diritti del cuore immaculato di Maria mediatrice fra gli uomini e Dio perché la mia ora è prossima e vediamo come conclude De Mattei questa è la prima puntata ce ne sarà una seconda penso almeno le provvizioni di solene a Iello si diffusero soprattutto dopo la sua morte ma non furono prese in considerazione per il loro carattere apocalittico mal tollerato dall'ottimismo di quegli anni l'11 ottobre 1962 nella celebre allocuzione Gaudete Mater Ecclesia con cui si apriva il concilio Vaticano II Papa Giovanni XXIII condannava i profeti di sventura le profetie di sventura dovevano apparire allora quelle di Solerio e Anagiello nell'epoca del dialogo della distensione della pace minteris oggi però il clima è molto cambiato la possibilità di un castigo divino continua ad essere rimosso dalle menti degli uomini e si non prendono in considerazione la Madonna quando dice che Satana vuol disurgere le nostre vite e il pennello sul quale viviamo una delle più fragili ragioni che possono essere adotte per rifiutare gli avvisi della Beata Aiello è che sono passati 60 anni dalla sua morte e le sue profezie che non si sono realizzate appartengono mai al passato questa è una scusa si dimentica però che i tempi degli uomini sono diversi da quelli di Dio che tutto misura la luce dell'eternità quando un castigo annunciato dal Signore ritarda non significa che non verrà ma che sarà tanto più pesante quanto maggiore il ritardo voi pensate alla profezia di Giù su Gerusalemme era verso l'anno 35 33 e si è realizzata nell'anno 70 e come è stata dura la durezza del castigo infatti in proporzione alla gravità del peccato ma anche della lunghezza del tempo che Dio concede per convertirsi voi pensate quanto tempo ha concesso a Međugorje la Madonna per la conversione il tempo viene concesso agli uomini per pentirsi e se questo non avviene alla misericordia viene sostituita la giustizia divina gli 7 ci dice Mattei e conclude scoloreranno le spalle ma la Chiesa ha bettificato la vigente calabrese senza trovare nulla di riprovervo né sui scritti nessuno ha l'obbligo di credere alla rivelazione della beata Elena Aiello ma il cattolico prudente applica il suo discernimento a ogni voce come questa appunto che potrebbe venire dal cielo perché di queste voci la divina provvidenza si serve per orientare le anime nei tempi più oscuri della storia come questo qui che stiamo vivendo questo è un articolo uscito ieri di De Mattei il professor Roberto De Mattei sui castighi divini voi ci ha detto come va intesa questa espressione sul mondo secondo la beata Elena Aiello prima parte poi ci sarà anche la seconda parte dunque questo articolo lo potete leggere sul blog l'ho pubblicato ieri sera il mio blog lo conoscete blog di padelivio.it se usate google oppure se usate il nostro sito internet cliccate catalogo adesso cari amici andiamo appunto al blog questo qui è un articolo del blog che è il primo ci sarà sicuramente almeno un secondo che offro la vostra riflessione cari amici cioè poche parole la novità è questa che De Mattei ha ripreso questo discorso perché lo ritiene al cametto attuale ovvio scusate vediamo allora cari amici come ho risposto alla lettera che mi ha infiato ieri da parte di Marco che mi dice papà delivio la persecuzione alla chiesa è prevista dai segreti di Međugorje perché effettivamente nei periodi di Međugorje non si prevede una persecuzione alla chiesa non lo si dice espressamente lo si dice invece in quelli di Fatima ovviamente specialmente nel terzo segreto di Fatima con la processione della chiesa guidata dal Papa verso la cima del Calvario allora vediamo come io rispondo a Marco su questa domanda la persecuzione della chiesa alla chiesa è prevista dai segreti di Međugorje rispondo caro Marco la persecuzione alla chiesa è una costante della storia cristiana le profezie di Gesù hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi e quanto è accaduto in questi due millenni tuttavia ora la situazione è diversa perché l'obiettivo è quello di mettere fine al cristianesimo come fase superata dalla storia questo tipo di persecuzione è già in atto in occidente e non sappiamo quale strada prenderà se quella della persecuzione è sanguinosa oppure no potremmo trovarci nella situazione che saranno i cristiani a perseguitare gli altri cristiani ci saranno le correnti moderniste a fare piazza pulita diciamo così del cristianesimo nel mondo la Madonna ci indica la cosa più importante cioè la saldezza della fede in suo figlio l'esempio dei martiri deve stare davanti ai nostri occhi rispondo io non dimentichiamo che il martirio è una testimonianza suprema di amore per Cristo che apre immediatamente le porte del cielo e c'è poco da fare come ha detto San Giovanni Paolo II la chiesa è in una situazione tale per cui può essere rinnovata solo dal sacrificio della vita dei martiri questo dunque era per quanto riguarda la lettera l'email che mi è arrivato di Marco poi stamattina cari amici mi è arrivato un'email piuttosto lungo molto interessante di Paolo Emilio un'email che magari oggi non ho più tempo domani forse prenderò il tempo cercherò di trovare il tempo di leggerlo e commentarlo perché Emilio ci parla in questo email di una sua esperienza cioè lui ha organizzato tutta la sua vita come già vi ho detto io prima in funzione dei tempi che viviamo questi tempi dell'apocalisse quindi spegnendo la televisione e tutte le forme di inquinamento dell'anima che abbiamo a disposizione l'ha impostata meticolosamente molto bene in un totale invece da poter alimentare l'anima con tutto ciò che di buono e di bello ci ha a disposizione e ci parla della bellezza di questa sua esperienza e che a mio parere è un modello quello che ci offre Paolo Emilio che possiamo imitare per cui vi invito a leggere questa lettera è bellissima è anche originale è intelligente è intelligente è ludevole in tutti i sensi e poi si vede che è vissuta allora la trovate nel blog l'intervisto del blog è il blog di padelivio.it se entrate attraverso google se entrate attraverso il sito raddomaria.it in alto a destra c'è l'icona del blog cliccate ed entrate e leggete questa bellissima testimonianza di Paolo Emilio su come ha organizzato la sua vita positivamente con iniziative varie rinunciando come dice ad essere uno spettatore televisivo non perdetela leggetela e fatela passare cioè copiatele e fatela passare incolla e spedisci bene carissimi questo era quanto era per il blog concludo ringraziando tutti voi per gli aiuti che date raddomaria è come la manna cari amici popolo di israele bisogna della manna ogni giorno così noi ogni giorno abbiamo bisogno del vostro aiuto per andare avanti e anche per aiutare i più poveri perché abbiamo delle responsabilità e mi ha colpito l'email un nostro tecnico ieri da Monrovia in Liberia che mi ha detto che andava lì per la prima volta uno tecnico di Radio Maria mi ha detto è gente che è molto povera e ha una ristrettezza di vita ma ha tanta fede mi ha detto e mi è molto piaciuto perché un laico un tecnico che ha matto giù per fare per la prima volta un impianto elettrico a Radio Maria Monrovia e così cari amici queste persone che hanno tanta fede hanno diritto al nostro aiuto perché ci sia una Radio Maria che porti la voce di Gesù e di Maria in tutto il mondo con questo concludiamo e fra poco il nostro bellissimo libro vedo che lo avete gradito mi fa molto piacere è un format un format nuovissimo e è un connubio col blog ma molto interessante è molto piacevole vedo che sono in tanti che hanno cominciato a leggerlo a fra poco il libro è la gloria di Maria nell'alluncio dei segreti a fra poco